Ciao tizzi, oggi vi volevo chiedere di iscrivervi a un canale troppo bellissimo Trattasi del fantastico Pierre Drawing A parte gli scherzi, veramente, questo è il canale di Pierrigo Spero lo conosciate, è un ragazzo che ci ha aiutato molto nelle collaborazioni E spero che vi interesserà seguirlo Mi raccomando, detto questo, ciao!